dare diritti e doveri ai cittadini che vivono da 30 anni in queste condizioni ma il signore quando gli chiede che cosa fa questo signore ha mai lavorato vogliono sapere che cosa fa perché lo dobbiamo mantenere nella sua mente non riesco a capire perché lo dobbiamo mantenere no scusami io prima di tutto ho l'associazione sono presidente dell'associazione della vita e lavoro allora lavoro signora io soprattutto anche gli altri no perché dobbiamo perché dobbiamo pagare per un superamento di aree sosta che neanche dovrebbero esserci quelle persone che vedo attorno a lei avranno un lavoro semplice 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 per 30 anni avete usato una politica avete usato una politica di campamenti dove le vostre cooperative della destra e della sinistra hanno sfruttato su questi campamenti vi state infiammando un po' troppo non si capisce niente